Non solo si ringhe al parco urbano della stazione di Sernia perché come potete vedere in alcuni tratti la pavimentazione è completamente di velta. Questo parco che è stato inaugurato nel maggio del 2021 è già in alcuni punti versa in condizioni molto critiche. Non solo il maltempo ma spesso quanto abbiamo visto fino ad ora è anche conseguenza di azioni da parte di vandali. Per questo motivo nei giorni scorsi c'è stata una riunione in prefettura dove è stato stipulato un accordo con il ministero per collegare queste telecamere al sistema informatico delle varie forze dell'ordine. Ci troviamo davanti alla struttura che ospita il servizio di bike sharing, un servizio che però non è mai partito e le bici sono ancora parcheggiate qui dentro. E infine un problema di cui già ci siamo occupati nonostante il parco stazione sia frequentato da tantissime persone, anche questa mattina una scolaresca era qui a fare educazione fisica, i bagni pubblici continuano a rimanere chiusi.